Quella di Pat Flynn, californiano di origine, è probabilmente una tra le figure più emblematiche del mondo del business online, dell'imprenditoria digitale e del passive income, ovvero del reddito passivo, in quanto generato in automatico. La sua storia inizia con una data, quella del suo licenziamento come architetto, avvenuta nel 2008 in piena crisi economica globale. Pat si ritrovò improvvisamente, senza lavoro e senza il piano B, ma quanto all'inizio era parso come una devastante tragedia, in verità era stata la sua più grande ed incredibile fortuna. Ciao e benvenuto nel mio podcast, io sono Marco Salvo, la mia formazione è prettamente SEO e mi occupo di blog e Youtube e in particolare collego questi due strumenti per ottenere una presenza online forte e duratura. Ti invito ad iscriverti alla mia newsletter gratuita, trovi il link nella descrizione dove parlo della creazione di contenuti, di come un blog e Youtube possono aiutarti a ottenere visibilità e condivido i miei pensieri, le mie emozioni e tutto ciò che passa nella testa di chi crea contenuti in modo costante su queste piattaforme. Ti ricordo che questo video è tratto da un articolo del mio blog che puoi trovare su marcosalvo.it, ma ora andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta. Andiamo! Per vedere il lavoro infatti aveva costretto Pat a ripensarsi come lavoratore e soprattutto doveva ricostruire una sua professionalità. Insomma ci voleva il famoso piano B. Fu allora che Pat decise di rivolgersi a internet come mezzo per guadagnarsi da vivere e di affacciarsi al mondo del business online condividendo la sua esperienza e il suo percorso, proprio attraverso un canale digitale. Il progetto online da lui creato di Smart Passive Income dove realizzare uno spazio per condividere apertamente successi e fallimenti con la volontà di avviare business online di reddito passivo. Questa onestà e trasparenza unita a una costante esperimentazione e alla volontà di imparare dagli errori ha rapidamente catturato l'attenzione di una vasta audience. Atteggiamento che ha poi determinato il successo di Pat verso il proprio personal brand perché ha permesso di creare un legame di fiducia con il pubblico che lo vedeva non come l'ennesimo guru del business ma come una persona alla pari, qualcuno che proprio come loro stava affrontando insidie, criticità, successi e fallimenti ma che desiderava condividere con gli altri mentre imparava lungo il percorso. Il suo blog ospitato su Smart Passive Income fino dal suo lancio è servito non solo come diario personale per esternare e oggettivizzare il percorso di Pat nel business online ma anche per documentare i progressi e farne una risorsa educativa completa per tutti coloro che desiderano imparare come generare reddito passivo. Quello che ha contraddistinto da sempre subito lo stile di Pat è la palpabile trasparenza assoluta con cui l'imprenditore digitale ha affrontato la presentazione dei contenuti per di più di indiscusso valore. La stessa autenticità con cui non ha mai nascosto i periodi di sconforto, gli errori e le criticità dell'essere online. Gli articoli del blog coprono una vasta gamma di argomenti che spaziano dalla creazione di blog di successo alla gestione di podcast, dalle strategie di marketing all'utilizzo di strumenti seo avanzati per incrementare la visibilità sui motori di ricerca. Ogni mese Pat pubblica i suoi report finanziari dettagliati offrendo un'analisi dei guadagni generati attraverso varie fonti di reddito passivo come l'affiliate marketing, i corsi online e la vendita di prodotti digitali. Questa scelta lo ha posizionato come una delle figure più affidabili nel campo del business online perché dimostra che i suoi consigli sono fondati su dati reali e trasparenza finanziaria. Contenuti validi e trasparenza sono state strategie comunicative che hanno creato un profondo engagement con la sua audience e basi su cui poter costruire relazioni di fiducia con il suo pubblico. Il blog è una fonte attendibile, autorevole e referenziata, una vera miniera di contenuti evergreen che rimangono rilevanti nel tempo e continuano a creare valore e traffico anche anni dopo la loro pubblicazione, spiegando come generare reddito passivo attraverso affiliate marketing, podcast e la creazione di contenuti digitali. L'alta capacità di interagire in maniera fortemente coinvolgente di Pat è stata in grado di realizzare una community fedele e attiva che puntualmente partecipa ai contenuti oltre che a leggerli attentamente per scovare le nuove strategie consigliate in quanto efficaci per monetizzare online. La community di Pat vive e si amplifica anche attraverso altri canali online che sebbene attivi e seguitissimi per la loro natura volatile e istantanea non hanno chiaramente la stessa efficacia del blog e dei suoi contenuti, praticamente eterni, perché sempre online e disponibili alla consultazione. Pat infatti ha una presenza sui principali social network quali Facebook, Instagram, X, TikTok, ma resta comunque il blog, la risorsa più preziosa per la strategia di personal branding per Pat, una risorsa duratura, perenne, che continua giorno dopo giorno a generare valore e a rendere Pat un esperto del settore. Senza il blog tutto questo non sarebbe stato chiaramente possibile. Comunque non solo il blog, però, perché un altro tassello fondamentale nel successo di Pat Flynn è stato il suo canale YouTube, piattaforma che Pat ha saputo utilizzare egregiamente, sfruttando tutte le potenzialità per diffondere ulteriormente il suo messaggio e raggiungere un pubblico globale. Con video pratici e tutorial, Flynn ha condiviso consigli, strategie, trucchi e suggerimenti per replicare i risultati da lui nel business online. La capacità di creare contenuti video che catturano l'attenzione e che offrono soluzioni concrete è stata la chiave per mantenere alta la fedeltà del suo pubblico. E se il blog ha aperto la strada alla crescita della notorità di Pat, YouTube ha senza dubbio consolidato la sua autorevolezza, garantendo una visibilità amplificata. Il canale, che conta ben 453.000 iscritti e oggi 866 video, rappresenta una libreria di contenuti e tutorial dettagliati in grado di informare, formare, risolvere problemi, creare opportunità di business disponibili e alla portata del click. Non si tratta di semplici ispirazioni, ma i contenuti di Flynn sono dati concreti, che è stati e resoconti dettagliati di ciò che funziona e di ciò che non funziona. Questo onestà lo ha differenziato da molti altri imprenditori del settore, rendendo il suo canale educativo e autorevole. YouTube, estensione naturale del blog, crea un ecosistema integrato in grado di rafforzare il legame con l'audience, rafforzando contestualmente anche il suo personal brand, connettendosi con gli utenti in modo ancora più diretto e personale. Il canale ha inoltre permesso di estendere i pubblici di riferimento, portando i contenuti verso persone che magari non avrebbero mai scoperto il blog. In questo senso YouTube è diventato una vetrina globale, con un accesso immediato e gratuito agli insegnamenti di Flynn. Ascoltando i podcast di Pat o guardando i suoi video su YouTube, ma persino tra le righe del suo blog, quello che da subito colpisce è lo stile assolutamente spontaneo, genuino, autentico e per nulla attribuibile a quello adottato da altri digital manager o esperti di marketing. Pat è un uomo che parla ad altre persone e utilizza spesso il linguaggio semplice, lontano dai tecnicismi, pur mantenendosi elevato e profondamente professionale. Quello che arriva è la sua genuinità, il suo valore, aiutare altri imprenditori digitali o content creator mettendo a frutto la sua esperienza a beneficio degli altri. Il lavoro non è la parte più importante della sua vita, quella è dedicata alla famiglia, che ama e che rappresenta il centro delle sue giornate. Descrive spesso infatti il lavoro dell'imprenditore digitale come il ruolo ideale per dedicare tempo agli affetti. Lo stile di comunicazione di Pat è proprio uno dei motivi principali del suo successo, perché lo rende empatico sin da subito e perché riesce a sintonizzarsi emotivamente con il pubblico. Pat non ha mai nascosti fallimenti, ma li ha condivisi. Non ha mostrato vergogna né riluttanza e questo atteggiamento lo ha premiato, rendendolo affidabile agli occhi dei suoi follower. Inoltre Flynn utilizza una narrazione coinvolgente che rende ogni suo contenuto non solo utile, ma anche piacevole da seguire. Pesso nei suoi video e negli articoli, come anche nei podcast, racconta aneddoti personali o episodi della sua vita, utilizzando lo storytelling come strumento per veicolare i suoi messaggi, ma rendendoli coinvolgenti, emozionali e per questo anche memorabili. Flynn ha costruito la sua autorità attraverso l'empatia e la connessione umana e si vede, si sente, si legge. Così facendo Pat ha costruito un valore fondamentale e raro, la fiducia. Flynn è riuscito a ottenere la fiducia dimostrando che si può avere successo finanziario online senza sacrificare l'integrità, cioè monetizzando in maniera etica e corretta, senza mai sembrare invadente o opportunista. Con la sua strategia multicanale, realizzata grazie alla sinergia soprattutto tra YouTube e blog, ma in parte anche grazie ai social, Flynn ha creato una sua presenza online completa e costante, in cui ogni piattaforma alimenta l'altra, offrendo al pubblico una serie di touch point da cui attingere per migliorare il proprio business online. Ma senza l'uso del blog e di YouTube, il suo percorso verso il successo sarebbe stato chiaramente molto più incerto e lento e non avrebbe consentito di acquisire quella autorevolezza che tanto lo contraddistingue oggi e che è mentore per chiunque cerchi di avviare o migliorare un percorso di business online. In definitiva ci insegna Pat che il personal branding non è solo una questione di visibilità, ma di creazione di valore concreto e duraturo. Ciao e benvenuto nel mio podcast, io sono Marco Salvo, la mia formazione è prettamente SEO e mi occupo di blog e YouTube e in particolare collego questi due strumenti per ottenere una presenza online forte e duratura. Ti invito a iscriverti alla mia newsletter gratuita, trovi il link nella descrizione dove parlo della creazione di contenuti, di come un blog e YouTube possono aiutarti a ottenere visibilità e condivido i miei pensieri, le mie emozioni e tutto ciò che passa nella testa di chi crea contenuti in modo costante su queste piattaforme. Ti ricordo che questo video è tratto da un articolo del mio blog che puoi trovare su marcosalvo.it, ma ora andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta. Andiamo!